Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio dare tutti l'ordi dovuto al padre Yahweh nel nome di suo figlio il nostro re salvatore e rendentore Yahweh Shai colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù e doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone per avermi insegnato questa verità che sto per condividere e come sempre i miei saluti alla casa di Israele a coloro che con sincerità cercano questa verità a coloro che fanno arrivare ai quattro lati della terra questa verità, ok? Questa lezione sarà basata su Natale, la festa del Natale e il Babbo Natale, ok? Come vedete sullo schermo e questa è una festa che, sì, diciamo che è la festa più importante in tutto l'anno. I bambini aspettano da gennaio fino al dicembre per festeggiare questa festa qui è un peccato che la gente non conosce le origini di questa festa davvero satanica, ok? E sì, sono stato qui, volevo fare il video in un'altra maniera, ok? Dandovi prove già stabilite, ho detto provo ad andare su Wikipedia e in Wikipedia infatti, come sempre, quando uno ha lo spirito del padre quando uno ce l'ha riesce a vedere tutta la verità proprio davanti agli occhi ma ci vuole lo spirito per capire questa verità perciò io leggo la Wikipedia e questa lezione sarà basata su, diciamo, quello che vedremo qui, ok? Io spero che coloro che sono destinati fin dall'inizio per ricevere questa verità la ricevano senza problemi, senza difficoltà, ok? Eccoci qui, come vedete sullo schermo c'è il Babbo Natale, ok? Vedete, personaggio immaginario che distribuisce regali nella notte tra il 24 e il 25 dicembre Ora andiamo a leggere Babbo Natale è un personaggio immaginario presente in molte culture della tradizione natalizza della civiltà occidentale oltre che in Giappone e in altre parti dell'Asia orientale distribuisce regali ai bambini di solito la notte della vigilia di Natale e viene rappresentato come un uomo anziano vestito con giacca, pantaloni e capello rossi con bordi di pelo bianco ok? Ecco la foto è così chiamato Babbo Natale che tutti i bambini conoscono che tutti, anziani anche e andiamo ora ai origini ok? questa è la foto delle origini ok? come vedete antica illustrazione data dal 1881 ora leggiamo tutte le versioni del Babbo Natale moderno chiamato Santa Claus nei paesi anglofoni derivano principalmente dallo stesso personaggio storico San Nicola ok? Vescovo di Mira oggi Demre città situato nell'odierna Turchia di cui per esempio si racconta che ritrovò e riportò in vita cinque fanciulli rapiti ed uccisi da un'oste e che per questo era considerato il protettore dei bambini l'appellativo Santa Claus deriva da Sinta Claus nome olandese di San Nicola ok? perciò il personaggio vero del Babbo Natale Babbo Natale è San Nicola ok? e deriva il suo nome da Santa Claus da Sinta Claus ora andiamo clicchiamo un attimo vediamo cosa c'è eccoci qui Sinta Claus vediamo che foto ci dà vedete questa è una foto da così San Nicola ok? Sinta Claus e vedete il cappello che è una mitra poi andiamo anche in quello leggiamo Sinta Claus è una figura leggendaria basata su San Nicola patrono dei bambini ok? patrono dei bambini ora andremo a vedere cosa vuol dire patrono patrono vuol dire protettore ok? altri nomi per la figura includono dei sint secondo santo dei goede sint il buon santo ok? e dei goede il buon santo uomo in hollandese San Nicola in francese Sinta Claus nel dialetto frisone occidentale Sinta Claus in lingua limborgese Sint Nicoloi in Fiamingo occidentale Clicen e Zinninklaus in Lusemborgese e Sant Nicolaus o Nicolaus in tedesco e in inglese hanno fatto lo hanno accocciato a Santa Claus ok? ecco questo sarebbe una foto andiamo avanti a leggere la festa di San Nicolaus si celebra il 6 dicembre giorno di San Nicola la festa viene celebrata ogni anno con la consegna di regali alla vigilia di San Nicola 5 dicembre nei paesi bassi e la mattina del 6 dicembre San Nicola in Belgio Lussemburgo e Francia settentrionale Fiandre francese Lorena e a Troi la tradizione viene celebrata anche nei territori dell'ex impero olandese tra cui Aruba e Kurakao Sinter Claus è una delle fonti della popolare icona natalizza di Babbo Natale ok vedete leggiamo Sinter Claus è basato sulla figura storica di San Nicola 270 a 343 un vescovo sarà dopo Cristo un vescovo greco di mira nell'attuale Turchia è raffigurato come un uomo anziano signorile serio con i capelli bianchi e la barba lunga è piena indosso un lungo mantello rosso o una casula sopra un tradizionale camice bianco da vescovo e talvolta una stolta rossa indossa una mitra rosso e un anello di rubino e tiene un pastorale color oro un lungo bastone da pastorale cerimoniale con un elegante punto arricciata indossa una mitra ok se clicco sulla mitra cosa è non è altro che il capello che indossa il papa la mitra forma mitria ok mitera mitra prestito dal greco parlamento liturgico è il copricapo usato dai vescovi ok di monte confessionale cristiana durante la celebrazione liturgica ma come ho fatto un video in passato chi sono i veri santi la potete capirne un po' di più ma vi lo faccio vedere e se andate giù vedete uno delle più antiche ok ecco la foto e cosa notate è per adorare i dei di sole ok dei di sole comunque la mitra questo è un cappello a forma pesce ok che va indossato eccoli qui a forma pesce vedete forma pesce va indossato dai vescovi di mitraismo ok ecco perché si chiama la mitra ok e per farvi capire di più mi ho salvato ecco qui mitra se andate su wikipedia e se leggete dice mitra è una divinità dell'induismo anzi dall'indu e della regione persiana ed anche un dio ellenistico quando sentite ellenistico si parla di greco e romano che fu adorato nelle religioni misteriche ok vedete i dei di sole dio soli avete visto qui questa foto ok dio soli dire che il dio di sole ok è paganismo il mitraismo o mitraismo fu un'antica religione ellenistica dei greci basata sul culto di un dio chiamato metras che appatterente deriva dal dio persiano mitra e da altre divinità dell'azurastraismo a differenza dell'azurastraismo fu una religione misterica ok e anzi faccio vedere ecco qui nella bibbia ok c'è il racconto di questi di questi vescovi ok così chiamati vescovi ecco una foto antica si chiamano mitra i dagon ok nella bibbia dagon ok ed è quello che hanno riportato modernizzato ok tutto questo per farvi sapere sempre che i culti antichi sono quelli riportati sempre nei giorni moderni ok ma se uno è priva di spirito e di conoscenza segue tutto ed è come il pesce che va portato dal corrente ovunque come dice sempre mio fratello mio ac questa verità lui usa questa parola qui è come il pesce portato dal corrente d'acqua ok ora torniamo infatti anzi qui ho anche Klaus Klaus che è Santa Klaus Klaus ok la togliete dal mezzo e la mettete alla fine vi dà Satana in inglese la Klaus la Klaus la del Satana ok questo è solo per farvi vedere qualcosa come girano le cose ok ora torniamo a quello che stiamo leggendo volevo voglio farvi vedere questa cosa qui ok la mitra dice ma allora dicono che San Nicolò indossa questa mitra e questo è per farvi sapere che non è un vero santo infatti andate a vedere i video che ho fatto i veri santi e là comincerete a capire come funziona questo meccanismo di nominare i uomini santi ok era un vescovo del mitraismo ok che vi ho fatto vedere adesso ok ora torno dietro e continuiamo a leggere allora questa foto qui fanno vedere sempre lui ok con il bastone là il bastone degli antichi vescovi del dagon ok volevo leggervi altri punti anzi leggo veloce se trovo un punto potete andarlo a leggere ma sto cercando dei punti da spiegare qualcosa il primo personaggio è San Nicolò è il vescovo cristiano in Europa vai cerca ok qua c'è un po' di storia ok infatti quelli dei rimini l'ido di Venezia ci credono tanto a questo così chiamato santo ok e qui c'è scritto San Nicolò San Nicolò è considerato il proprio patrono da parte di adulti marinai mercanti acieri bambini prostitute farmacisti sapete cosa vuol dire la farmacchia stregoni ok avvocati prestatori di impegno detenuti ok dicono che è il patrono andiamo andiamo a vedere che cosa vuol dire la parola patrono patrono vedete viene dalla parola latina patronus che vuol dire protettore da parte padre ok era nella Roma antica un cittadino di una certa autorevolezza in genere patrizio chiamato così per via di legame detto di patrocino ossia di protezione ok allora quando vedete il patrono vuol dire un protettore e padre ok ricordatevi di questo punto qui e sì andiamo avanti andiamo proprio all'origine di questo ok San Nicolà San San Nicola ok perché su Wikipedia vi danno prima informazioni leggeri all'inizio ok che sanno che la gente di solito non vuole leggere ok e quelli che hanno lo spirito che fanno più ricerche più profonde cominciano a trovare sempre più più cose scorrendo sotto questo 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 almeno è quello che ho notato ora andiamo all'origine ok dicono folklore germanico ok di San Nicola ok ok prima di essere chiamato San Nicola si chiamato si chiamava Odin che era un dei un dio un dei ok un dio con di minuscolo questa parola vuol dire la tradizione antica passata da generazione a generazione attraverso la bocca ok poi vedremo vedete questo questo dei qui degli antichi germanici aveva un occhio ok aveva un solo occhio e cosa vi fa pensare qui scrivo fa pensare dei dei degli antichi egiziani Horus che ha un solo occhio ok che ha un solo occhio se andate a vedere sempre sulla storia infatti i massoni i massoni i massoni hanno quell'occhio là su tutti i loro loghi ok che alla fine è l'occhio dell'horus avete visto l'occhio malvagio dell'horus eccolo qui avete visto l'occhio malvagio dell'horus e questo viene dall'antica figli di Egitto ok perché quei dei avevano un solo occhio ma comunque se uno non fa attenzione non capisce il meccanismo perché riportano e danno un nome diverso ok ora andiamo a leggere perciò avete visto che stiamo leggendo su San Nicola ok che è così chiamato Babbo Natale ok e lui prima di essere chiamato San Nicola dicono che è ok l'ordine andiamo a leggere prima della conversione al cristianesimo e folclore anzi andiamo a vedere cosa vuol dire questa parola folclore vuol dire il termine folclore o folclore pronuncia folclore dall'inglese folk popolo e l'ore sapere si riferisce a quelle forme di cultura popolare comprendente le tipologie di traduzioni tramandate spesso oralmente ok torniamo dietro perciò ora sapete cosa vuol dire questa e queste diciamo che queste tradizioni sono quelle più tra i più solidi perché sono cose che vivevano queste qui allora lo passavano da generazione a generazione ai loro figli che guarda che cosa è successo in questo tempo questo di solito si riscriveva ok per non dimenticare diciamo che tutta la storia che abbiamo è una sorta di è una sorta di folklore poi c'è chi lo scrive e diventa una storia scritta ok andiamo avanti il folklore dei popoli germanici inclusi quello inglese narrava che il dio Odin conosciuto come Vodan ancora ogni anno tenesse un grande battuta di calcia nel periodo di soltizio invernale che è Natale accompagnato dagli altri dei e dei guerrieri caduti ok e andate avanti a leggere ok anzi leggiamo un altro po' ok la tradizione voleva che i bambini lasciassero i propri stivali nei presi del caminetto riempendoli di carote paglia o zucchero per sfamare il cavallo volante del dio slave tnir ok se cliccate questo vi porta vedete è diavolo è il diavolo con un solo occhio avete visto ed è quello Odin che avete visto prima ok vedete ha un occhio e c'è la forca del diavolo ok e avete visto ricevute il dono freia il sole e la luna ok il sole e la luna che è il sole che avete visto sulla mitra che indossano quei così chiamati falsi santi torniamo dietro perciò vedete qui ce n'è tanta verità nascosta che ci vuole lo spirito del padre Yahweh ok per capire queste cose qui in cambio Odin avrebbe sostituito il cibo con regali o dolciumi questa pratica è sopravvissuta in Belgio i paesi bassi anche in epoca cristiana associata alla figura di San Nicola avete visto perciò vedete è quello che succede in Natale che i bambini fanno tutte che le cavolate lasciano il latte quelle cose che possa bere Babbo Natale conosciuto come San Nicola conosciuto come Odin conosciuto come diavolo ok ecco un'altra raffigurazione di questo dei qui ecco un'altra raffigurazione vedete ok è proprio avete visto qui gli abitanti di Sintacla sono simili a quelli di un vescovo i abiti di Sintacla sono simili a quelli di un vescovo porta una mitra abbiamo visto già che cosa vuol dire mitra un copricapo liturgico rosso ok avete visto che così chiamato San Nicola che vedete nelle chiese cattolici non ha nulla a che fare con le scritture non ha nulla a che fare con la verità ha tutto solo a che fare con il satanismo di un Dei antico ok travestito come un bene un santo ora vedete prima della conversazione in cristianesimo il folklore del popolo germanico incluso quello inglese narrava che il dio Odin Wodan ok tenesse un gran battuta di caccia nel periodo del soltizio invernale jule ora andiamo a vedere che cosa vuol dire questa parola jule e rimanete scioccati nella tradizione germanica pre-cristiana jule era la festa del soltizio d'inverno né paganesimo né neopaganesimo soprattutto in quello germanico rappresenta uno degli otto giorni solari o sabbat viene celebrato intorno al 21 dicembre nell'emisfero settentrionale e intorno al 21 giugno in quello meridionale ok avete visto che è una cosa festeggiata dai pagani paganesimo ok nell'era paganesimo ok che sarebbe quello che festeggiamo dal dicembre il natale il periodo natalizzo ora vediamo un altro po' jule è la variante inglese del noreno jule e del tedesco jule l'etmonologia della parola non è chiara è diffusa l'idea che deriva da noreno jule ruota che riferimento al fatto che nel soltizio d'inverno la ruota dell'anno si trova al suo estremo inferiore e inizia a risalire linguistici suggeriscono invece che jule sia stata ereditata dalle lingue germaniche da un subtratto linguistico pre-indo-europeo nelle lingue scandinave il termine jule danese e svedese o jule islandese faraonese e jule entrambi il significato di jule e di natale il significato di jule e e di natale ok ha entrambi il significato di jule e di natale ok vuol dire la stessa cosa jule vuol dire natale e viene talvolta usato anche per indicare alle festività di dicembre il termine si è diffuso anche nelle lingue finiche per indicare il natale in finlandese julu sebbene tali lingue non siano di ceppo germanico andiamo a vedere la festa di jule tradizionale ok allora quello che volevo farvi capire in questa cosa qui ora vedrete non si sa molto sulla festa di jule nella tradizione nord europeo è certo che la celebrazione non avveniva durante il è certo che la celebrazione non avveniva durante il soltizio inveniale in epoca precristiana nonostante vi siano numerosi riferimenti a jule nelle saghe islandese vi si trovano sotto solo pochi e parziali risoconti circa la natura delle celebrazioni si trattava comunque di un periodo di riposo e danza che in Islandia continuava ad essere celebrato per tutto il medievo fino all'epoca della riforma si sa anche che durante la festa veniva il sacrificio di un maiale in onore del dio noreno freia una tradizione che è rimasta nella cultura scandinavia in cui a natale si consuma la carne di maiale ok allora vi faccio vedere una cosa qui questo è un'immagine di quella antichità lì comunque una cosa perché dovete dovete guardare altre altre risorse a quell'epoca non abbiamo letto adesso che si sacrificava il maiale ma in realtà quello che si sacrificava era un bambino erano esseri viventi che si sacrificava e quando loro vi dicono che non si sa molto ok sappiate che stanno cercando di nascondervi qualcosa questa gente sanno fintanto che cosa ha mangiato il dinasauro sanno che per cose ha fatto il dinasauro delle cose strantiche parlano di 20 miliardi di anni fa e quello che è successo appena nel medioevo dicono che non sanno perché ce ne sono tanto da nascondere ok era un'epoca dei mori e succedevano tante cose che non vogliono farci sapere ok andiamo a leggere relazione con il natale moderno quando i missionari iniziarono la conversione del popolo germanico adattarono la tradizione cristiana a molti simboli e feste locali fu lo stesso Gregorio Magno tra gli altri a suggerire apertamente questo approccio alle gerarchie ecclesiastiche la festa di Iule viene quindi trasformato nel Natale mantenendo però alcune delle sue tradizioni originarie fra i simboli moderni del Natale che derivano da Iule compare fra l'altro l'uso decorativo di viscio e del agrifoglio e dell'albero di Natale così come gli alberi da frutta anche i sempreverdi sono un elemento fondamentale delle celebrazioni del solstizio solstizio invernale ok vedete l'albero di Iule rappresentava la fortuna per una famiglia così come un simbolo della fertilità nell'anno che sarebbe arrivato ok Iule nel mio paganismo nella Vica Iule è una delle feste minore degli otto sabbath e viene festeggiata il 21 dicembre in alcune tradizioni si commemora la morte del holy king re agrifoglio perciò voi che celebrate il Natale soprattutto questi stupidi ignoranti cristiani ok che siete proprio dei ipocriti avete le scritture davanti ma i vostri occhi sono chiusi dalla verità dicono di celebrare la nascita del figlio del padre che il figlio del padre non era nato in nessun momento vicino al Natale non era nato in nessun momento vicino a dicembre ok perciò quello che state facendo è la morte di un dè che si chiamava holy king ok anzi andiamo a vedere nella wicca cosa vuol dire wicca wicca vedete la wicca è stregoneria magia dovete aprire gli occhi qui andate a leggere ok andate a leggere è la magia popolare ok la wicca non è altro che la stregoneria è magia ok ed è quello che usano quelli che studiano cabala e tutte queste cose qui le sette i culti segreti i massoni usano tutto questo qui ok è una storia abbastanza profonda comunque in poche parole la wicca è stregoneria e noi i figli del padre siamo stati comandati di non appartenere alla stregoneria anzi anzi c'è il comandamento di quello di uccidere i stregoni quelli che praticano la stregoneria ok vi ho fatto vedere un po' su di uccidere che natale e siamo tornati dietro all'ordine vediamo se c'è anzi vi leggo un'altra cosa perché più che vado avanti vi trovo un'altra tradizione folclora della tribù germene che raccontano che vicende di un santuomo in alcuni casi identificato con san nicola alle prese con un demone che può essere di volta in volta un diavolo un troll o la figura di krampus o un oscuro uomo che uccideva nei sogni black man o pitchman la leggenda narra di un monstro che terrorizzava il popolo insinuendosi nelle case attraverso la canna fumaria durante la notte aggredendo e uccidendo i bambini in modo orribile cioè mi fa mi fa ridere ok perché il così chiamato babbo natale è un demone che entra vedete qui stiamo leggendo sempre del babbo natale o no vedete qui c'è scritto babbo natale e questa è la vera sua vera storia ok era un demone no il diavolo un troll sapete cosa vuol dire un troll ora vi faccio vedere ecco qui un troll era una sorta di demone vedete è la sacca del babbo natale avete visto e vi faccio vedere cosa vuol dire crampus ok ecco i crampus vedete crampus a dobiaco ora leggiamo un po' su questo crampus nelle zone di lingua tedesca il crampus è un essere demoniaco che accompagna la figura folclorista di San Nicola e viene rappresentata nella tradizione sfiliana lunga la strada del paese questo crampus è un compagno di così chiamato santo San Nicola ok e come fa un santo ad essere accompagnato da un demone da un diavolo vi chiedo ok questa lezione non la voglio tenere tanto lungo perché voglio anche toccare le scritture e vi consiglio comunque di andare a leggere queste cose qui anzi leggo velocemente qui altre forme di racconto rappresentano i demone convertito agli ordini del santo che raccoglie con sé gli altri elfi folletti e folletti vediamo cosa sono gli elfi questi sono gli elfi quei micinini là uomini piccoli ok che vedete nei cartoni animati che fanno vedere i bambini sono dei demoni ok tutto arrivano da qui diventando quindi babbo natale ok i elfi diventando babbo natale una diversa versione onlanese racconta invece che il santo viene aiutato da schiavi mori che vengono rappresentati di solito da personaggi di Svaitpiet Pietro Pietro il nero ok e qui vi stanno dando un indizio che Pietro era nero era un moro ok analogo dell'italiano uomo nero in questi racconti Isvaitpiet che è Pietro nero picchia i bambini con un bastone o dirapisce per portarli in Spagna nel suo sacco un tempo l'Andalusse era sotto il dominio dei mori qui vedete una verità assurda ok Andalusia ok era la Spagna ok con altri tanti paesi anzi tutti i paesi europei erano sotto il dominio dei mori vedete che la verità viene sempre fuori anche se cercano di nasconderli ok comunque sia il così chiamato Babbo Natale deriva da San Nicola ok San Nicola ok e San Nicola era l'antica dei ok o DIN ok che si celebra nel solstizio invernale Giule ok che non ha nulla a che fare con i figli e le padri non ha nulla a che fare con le scritture e sono tutte antiche antiche dei babilonesi anzi porta tutto all'Orus come avete visto ok orus ok i dei faccio vedere eccolo qui i dei antico degli egiziani ok infatti eccolo qui vedete è con un occhio dei dei sole e la sua freccia è il diavolo e lui va accompagnato sempre da un demone ok vedete qui se scrivete demone vedete che che figura vi danno vi danno la figura di un uomo bianco tipo così no con con i coso questo e vi dicono eros vuol dire che era un demone eros religione greca demone vedete demone e era era accompagnato da crampus che crampus è diavolo ok cioè io non sto mettendo insieme tutte queste cose qui questa è wikipedia andate leggete infatti il libro di Osea capitolo 8 4 dice il mio popolo muore dall'ignoranza ok perdonatemi un attimo ora per chiudere questa lezione andiamo a vedere cosa dicono le scritture e ricordatevi della parola Nicola Nicola ok perciò c'erano le persone che seguivano Nicola ok e ricordatevi quello che abbiamo letto qui scusatemi cosa ho fatto history scusatemi scusatemi babbo natale eccoci qui dove è il punto abbiate pazienza volevo farvi vedere qualcosa anzi qui Sinterklaus ok che leggendo vi dicono che è San Nicola e vi dicono l'era gli anni ecco qui da 270 a 343 ok dopo Cristo dopo la morte di Yahawaschai perciò dopo la morte di Yahawaschai c'era un gruppo di gente che seguivano i San Nicolò San Nicola si chiamavano i Nicolati ok ricordatevi questo ok perché per loro era un santo ok che non era altro che un diavolo un demone ok vedete il suo cappello vi avevo fatto già vedere qui ok ora andiamo alle scritture e leggiamo prima di che cosa parla le scritture del scusatemi un attimo di che cosa parla le scritture di idolatria ok leggiamo prima dal libro di essero capitolo 20 e versetto 4 che dice non farti scultura né immagini alcune delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra non ti prostrare davanti a loro e non li servire perché io il signore il tuo potere sono un potere geloso punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla tezza e alla quattro generazioni di quelli che mi odiano e qui sta parlando di la rincarnazione ok andate a vedere i video che ho fatto sulla rincarnazione e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti perciò non dobbiamo fare nessuna scultura e adorarli ok come facciamo come facciamo in questo periodo natalizio infatti raccontiamo troppe cose che fanno male a questi bambini questi bambini non riescono ad aspettare finché arriva questo così chiamato babbo natale che non è altro che un demone non vedono ora che arrivi a portarli il regalo e tutte queste cose qui ok leggo dal libro di Deutronomeo Deutronomeo capitolo 7 e versetto 25 che dice darai alle fiamme le immagini scolpite dei loro dei anzi darai alle fiamme le immagini scolpite dei loro dei non desiderai e non prenderai per te argento né oro che è su di esse affinché tu non rimanga preso all'accio perché sono abominevoli per il Signore tuo per il Signore Yahweh tuo potere ok noi l'immagine di questi dei qui vi scolpite di questi dei qui non dobbiamo avere a che fare con queste cose perché sono un abominio sono cose che abbiamo imparato dalle altre nazioni non esiste nelle scritture dove i fili ok di Giacobbe israeliti hanno dovuto festeggiare nella solstice invernale ok non esiste dove hanno dovuto servire un Dè con un occhio ok ora andiamo a leggere dal libro di sempre Dottoronomio capitolo 16 perché alla fine questo Babbo Natale è come un un essere che la gente desidera che gli aiuti e alla fine è San Nicola ok tanti hanno l'immagine di San Nicola a casa e pregano a questo San Nicola credono che sia un santo ok e lo pregano per protezione e queste cose qui come abbiamo letto prima ok e leggiamo da versetto 22 sono cose che non dobbiamo fare in assoluto e non piazzerai nessuna statua cosa che il Signore Yahweh il tuo potere odia ok queste statue di questi santi San Nicola è pieno in tutte le chiese cattoliche anglicane ok e nelle chiese tutte le altre chiese non me ne frega qualsiasi chiesa perché tutti fanno la celebrazione del Natale penso tranne alcuni ma nessuna ha la verità in queste chiese qui io quando andavo in chiesa in questo periodo qui montavano l'albero natalizio ok mettevano queste luci qui ora ripensarci cavoli cioè loro facevano un abominio che non ne sapevano neanche dall'ignoranza il padre li ha reso cerchi ok seguono tutte queste cose che non devono seguire il padre li fa apposta affinché non possano vedere così li prepara alla distruzione perché il popolo che segue questo la fine è distruzione ok ora leggiamo il libro di Matteo capitolo 23 versetto 9 che dice non chiamate nessuno sulla terra vostro padre perché uno solo è il padre vostro quello che è nel cielo ok tutti voi che chiamate il papa la scusate il mio francesismo il coglione la che sta è un allora il vaticano chiamate il papa perdonatemi il mio francesismo ok che mi viene proprio rabbia di queste cose qui il popolo è guidato da uno cerco che fine faranno finiranno nel pozzo tutti insieme ok lo chiamate il papa lo chiamate i santi il babbo natale è san nicola e c'è anche la festa del san nicola lo adorano hanno le sue foto a casa le cose e le adorano dimenticando quello che il padre vi ha insegnato e io sto parlando alla casa di Israele coloro che appartengono al seme di Giacobbe della stirpe di Israele sapete chi siete lo spirito vi lo dice dovete venire fuori da tutte queste pazzie qui prima che sia troppo tardi se no ribagherete con la vostra vita ed è brutto quello che è preparato per voi ma molto brutto ok chiamateli pure papa quel cavolo che volete intanto giudizio alle porte leggiamo da secondo corinzi capitolo undici e versetto quattordici che dice non c'è da meravigliarsi perché anche Satana si traveste da angelo di luce non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori giudiceo scusatemi non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia la loro fine sarà secondo di loro opere ok è chiaro qui Satana stesso si traveste come un angelo di luce come vi ho fatto vedere adesso San Nicola non è altro che diavolo Satana e vi ho fatto vedere basta tornare dietro a vedere dall'inizio di questo video qui e pure lo chiamano un santo lo adorano nelle chiese a Venezia è pieno di santuari fatto a San Nicola ok dove lo adorano dove bruciano le licenze per salvarlo ma invece stanno salvando il diavolo ok e colui che si chiama il santo la seduto al Vaticano non è altro che un diavolo ok con lui che si chiama il Papa non è altro che un diavolo è un diavolo travestito da santo vi ho fatto vedere prove andate a vedere i video che ho fatto in passato i veri santi apritevi gli occhi figli di Giacobbe figli di Israele perché due tezzi della casa di Israele meritate proprio la distruzione che il padre ha preparato per voi avete il colo rigido quando la gente che il padre ha messo a parte che gli ha aperto gli occhi vi portano la verità poi li prendete in giro ridete e fate nulla fate beffare tutto questo e avete più credenza avete più sicurezza e credete amate invece gli altri ok gli altri diavoli che vi che vi che vi guidano siete pronti ok ad essere distrutti assieme a questi diavoli qui ok perché il tempo non è più tanto vi stiamo parlando da tanto tempo che stiamo arrivando a un periodo e eccoci il periodo è qua quasi alle porte ora stanno parlando della distribuzione del vaccino ok che va ad uccidere i gene i gene di dio che avete là una volta preso quello prenderete anche il marchio della bestia che è il microchip siete proprio non lo so cosa dire se non venite fuori da queste cose qui infatti io faccio queste lezioni questi insegnamenti non aspetto che venga una folla ad ascoltarli a vederli perché sono pochi i scelti del padre proprio come dice le scritture larga è la strada che porta alla distruzione e sono tanti che entreranno in essi e stretta è la strada che porta alla vita eterna e saranno pochi che la trovano perciò non mi stupisco ora andiamo a leggere dal libro di Apocalisse capitolo 2 versetto 6 che è molto importante questo versetto qui ok è molto importante ok tuttavia è questo che detesti le opere dei Nicolaiti che anch'io detesterò andiamo a vedere un'altra versione c'è questo tuttavia a vostro favore voi detestate come me ciò che fanno i Nicolaiti chi sono i Nicolaiti chi sono i Nicolaiti quelli che seguono il Santo Nicola e vi ho fatto vedere dai anni che lo seguivano dopo la morte di Yahawaschai dove è dal 270 ok durante dopo la morte di Yahawaschai infatti se prendete quella parola questa parola qui in Nicolaiti ok e andate a vederlo nella sua forma come è scritto scusatemi e andate a vedere la forma come è scritto in greco eccolo qui ho fatto una foto ok ed è qui eccolo qui Nicolaites ok Nicolaite Nicolaus ok sta parlando di San Nicola e dice vittorioso su la gente ok in Nicolaiti è un eretico Nicolaus avete visto questo è molto importante è molto importante ok e qui le scritture anzi c'è anche il versetto 15 che ci fa capire questa roba qui ci sono anche tra voi alcuni che seguono tenacemente l'insegnamento dei Nicolaiti cambiate vita altrimenti fra poco verrò a combattere contro queste persone con la mia parola che taglia come una spada ok i Nicolaiti e sono coloro che voi state seguendo in questo periodo natalizio si il babbo natale e il san Nicola ok san Nicola quel cazzo che è perdonate il mio francesismo ok ora andiamo a leggere cosa cosa dice le scritture su paganismo beh ce ne sono tante scritture da leggere ok leggiamo dal libro di Esolo non volevo tenere lungo questo video ma va sarà lungo e chi ha lo spirito lo vedrà altrimenti va bene così tanto non sarà per tutti libro di Esolo capitolo 32 versetto 5 cosa dice quando Arone vide questo costruì un altare davanti al vitello poi proclamò domani è festa in onore al signore il giorno dopo al mattino presto gli israeliti bruciarono sacrifici completi e ne offrirono altri per il bacchetto sacro poi si sedettero per mangiare e per bere alla fine si misero a fare festa allora il signore Yahweh disse a Mosè scendi in fretta perché il tuo popolo che tu hai liberato dall'Egitto ha commesso una grave colpa hanno fatto presto ad allontanarsi dalla via che avevo ordinato si sono costruiti la statua di un vitello poi si sono inginocchiati davanti a essi le hanno offerto sacrifici e hanno detto o israeliti ecco il nostro potere che ci ha fatto uscire dall'Egitto ed è questo che state facendo ancora oggi siete presto a sviarvi a cominciare a seguire a seguire delle filosofie che non fanno parte di voi che non sapete neanche le origini voi non cercate le cose leggiamo dal libro di Deuteronomeo capitolo 12 leggiamo la versetto 29 che dice il Signore Yahweh vostro distruggerà certamente di fronte a voi il popolo di quelli di quali state per occupare la terra voi li sconviggerete e prenderete la loro terra quando il Signore li avrà sterminati state attenti a non lasciarvi ingannare non seguirete il loro esempio non cercate di sapere come essi hanno adorato le loro divinità per poi fare come loro ok non adorerete in tal modo il Signore vostro Dio vostro potere ok noi non dobbiamo seguire l'esempio delle altre nazioni sì che ora siamo in schiavitù in questo regno qui ma non dobbiamo seguire i loro dei questi sono dei strani Odin San Nicolaus Krauss tutto questo è satanismo e voi che non andate a cercare la verità non li vedete non li sapete nemmeno voi andate avanti a seguirli leggiamo dal libro di Marco leggiamo altro po' di scritture e poi chiuderemo tutte queste scritture per farvi vedere capitolo 7 leggiamo da versetto 5 anzi vado a scegliere un'altra versione ok i farisei e gli scrivi gli domandarono perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi ma prendono cibo con mani impure e Yahweh disse loro ben profetizzò Isaia di voi ipocriti come è scritto questo popolo mi onora con le labbra ma il loro cuore è lontano da me eh sì tutti al giorno d'oggi adorano i padri dicono Natale festeggiamo Gesù che è un pagano ok che non è nemmeno il suo nome ok ma il vostro cuore è lontano ai suoi comandamenti continuiamo a leggere in vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini avendo tralasciato i comandamenti di Yahweh vi attenete alle tradizioni degli uomini diceva loro ancora come sapete ben annullare il comandamento di Yahweh per osservare la tradizione vostra Mosè infatti ha detto onora tuo padre e tua madre e chi maledisce padre o madre sia condannato a morte voi invece se uno dice a suo padre o a sua madre quello che qui potrei assistere assistiti ecco urbano vale a dire un offerto a Yahweh a Dio ok infatti qui bisogna andare a vedere la radice di questa parola per non perdere tempo il punto è qui non gli lasciate più far niente per suo padre o sua madre annullando così la parola del padre con la tradizione che voi vi siete tramandata di cose simili ne fate molte ok qui cosa sta dicendo che questi hanno cambiato le leggi del padre ok hanno rimesso delle tradizioni degli uomini quello che dice il padre di fare loro non lo fanno cambiano tutto ed è quello che sta succedendo oggi ogni domenica penso non lo so quanto tanto tutti si radunano davanti a che parola uso per descriverlo al al pagliaccio là al Vaticano ecco la parola più giusta pagliaccio al pagliaccio al Vaticano là e lui racconta un sacco di favole cose dei uomini non ne narra uno giusto non ne dice uno giusto e tutto il popolo stupido popolo ignorante pieno di 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 oscurità accettano senza pensare al padre il padre ha dato dei comandamenti ma non li seguono seguono i comandamenti degli altri ok dei uomini cerchi ok e va bene per chiudere per chiudere andiamo a leggere dal libro di Giovanni capitolo 4 leggo da versetto 23 ma allora viene anzi è già venuta che i veri adoratori adoreranno il padre Yahweh in spirito e verità vuoi che il padre cerca tali adoratori ok Yahweh è spirito e quelli che lo adorano bisogna che adorino in spirito e verità ok questo è chiaro ed è semplice coloro che adorano i padri lo adorano sia in spirito e in verità non lo adorano con l'uomo carnale per capirne in più guardate il video che ho pubblicato ultimo che si intitola l'uomo carnale è guidato da satana ok infatti se non adori il padre in spirito e in verità puoi lasciare perdere tutto non stai facendo niente il Natale è l'adorazione del materialismo ok la parte carnale ok è satanismo il Natale non è altro che è satanismo satanismo puro in questo periodo nell'antichità dei pagani sacrificavano dei bambini ok sacrificavano dei bambini a questo demone così chiamato Babbo Natale San Nicola ok ok perciò spero che vi ha aperto un po' gli occhi in questo video beh comunque a coloro che sono stati scelti a riceverlo lo riceveranno detto questo spero siete stati edificati e perdonatemi il francesismo in questo video avevo sì avevo lo spirito così che alla fine non è non è un peccato peccati sono tutto altro queste sono parole parole dure ok e sono permessi detto questo do tutti i ringraziamenti e l'ordi al Padre Yahawa Bahashem Yahawashai Bahashem Rukkak Wadash miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone GMS per avermi insegnato questa verità e pace alla Casa di Israele alla prossima Shalom